Ciao, sono qui a Malaga e quello che voglio condividere con te è questo oggi. Basta con la competizione. Che cosa intendo? Intendo questo che, non so se hai notato, ma molte persone si motivano maggiormente quando sono in competizione. E che cosa vuol dire? Questo vuol dire la paura di perdere, la paura di sentirsi a disagio, la paura di sentirsi inferiori agli altri. Non siamo più in un momento di paura. Ora siamo in un momento energeticamente molto più connesso al cuore, all'amore. Quindi il fatto di essere in una competizione non porta più così fortemente, almeno nelle persone che hanno fatto un percorso evolutivo molto profondo, è quella motivazione che prima portava. Ora c'è bisogno di qualcosa di diverso. C'è bisogno di una motivazione che parta dal cuore, dal sentire qualcosa. Ti faccio un esempio. Se tu hai un compito, hai un compito condiviso con delle persone, ora ti senti più motivato dall'essere il più bravo perché vincerai un premio oppure perché farai un lavoro di grande contributo e piuttosto che essere il più bravo da solo. Vorresti che tutti quanti facessero il loro massimo per creare un lavoro che è di grande contributo proprio per il compito nel quale tu ti stai impegnando? Ecco, questo è un esempio, è solo un esempio. E come lo senti questo esempio? Ti faccio un altro esempio. Quando ti viene proposto di fare qualcosa, preferisci farlo se ti piace, se ti accende qualcosa, se ti fa sentire utile, se ti fa sentire importante per il fatto che tu puoi portare un contributo o semplicemente per il fatto che magari ti pagano o per il fatto che comunque puoi dimostrare di essere più bravo degli altri. Ebbene, quello di cui ti voglio parlare oggi è proprio questo. La competizione è finita. È finito il tempo in cui noi ci motivavamo per essere più bravi degli altri. Ci sta nel gioco, nel senso che comunque fare un gioco, non so se ami giocare a risico o qualsiasi altra cosa, ti può portare ad aver voglia di magari vincere. Ma quando si tratta delle cose importanti della vita, cosa ti spinge di più a fare il meglio? A me personalmente il fatto di sentire una cosa fortemente, il fatto di essere più bravo di qualcun altro non mi motiva proprio. Mi piace piuttosto creare un bel gruppo e fare un lavoro insieme ciascuno per le proprie competenze, per eccellere, ma non tanto per essere più bravi di qualcun altro, ma per fare un ottimo lavoro, per dare un contributo migliore, per poter fare qualcosa di magico magari. Spero di essermi chiarita in questo video e spero che questo spunto ti possa permettere di vedere oltre il livello in cui ti sei permesso di vedere fino ad oggi. E fatti proprio questa domanda, che cos'è che mi muove? Che cos'è che mi porta a fare il meglio? Che cos'è che mi porta ad esprimermi al meglio? E quindi questo ti permetterà di sentirti più forte, più motivato e di sapere quali sono le leve importanti da muovere per te per poter fare il meglio, per poter essere al meglio e per ottenere i migliori risultati nella tua vita. Bene, allora ti saluto, ti auguro una bellissima, luminosa, magica serata. Metti i tuoi commenti qui sotto perché è molto molto utile condividere questo. Ad esempio, ieri sera abbiamo fatto una bellissima diretta dove c'è stato un clima meraviglioso di grande amore, di grande collaborazione, sono venute fuori delle idee, degli stimoli e questo è stato molto molto bello. Questo clima di amore, di condivisione che si può arrivare a sentire senza essere smielati, perché sai bene che a me non piace tanto l'essere smielato o non essere proprio nel tuo sentire, nell'autenticità. Quindi metti i tuoi commenti qui sotto, condividi anche delle idee utili che possono essere utili a te e magari anche ad altre persone che le leggeranno, cosicché noi possiamo creare un circolo virtuoso che energeticamente ci nutra e ci permetta di essere sempre al meglio. Un abbraccio forte e buonissima serata! Ciao!